Prima che inizia il video ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete utilizzare il codice Calpis nel negozio oggetti KALPYS Mi raccomando non sbagliate nessuna lettera, è super importante per supportarmi e per vincere tutte le partite di Fortnite Raga, è pure uscito il nuovo bando all'armadietto CypherPK che è davvero super super figo Cioè potete ottenere tutte le armi che usa questo youtuber americano che si chiama CypherPK Con un bellissimo sconto, c'è la sua mimetica, il suo deltaplano, il suo piccore e tutte queste cose Quindi mi raccomando codice Calpis Comunque ragazzi in questo nuovissimo video siamo qui perché per chi non lo sapesse Con il nuovo aggiornamento di Fortnite 15.40 hanno aggiunto che gli NPC di Fortnite non ti possono dare solamente un'arma esotica O meglio si, ti possono dare un'arma esotica ma te ne possono dare addirittura 5 Quindi da un NPC puoi ottenere 5 armi esotiche uguali, puoi ottenere 5 cecchini esplosivi, puoi ottenere 5 dispositivi di lancio quadruplo Puoi ottenere 5 pistolette Segugio, puoi ottenere tutte le armi esotiche che vuoi Cioè non gratis, le devi pagare però tutte nella stessa partita Puoi avere 5 doppiette nello stesso inventario, è una cosa super forte Quindi in questo nuovissimo video andremo a provarle per vedere se sono davvero così forti oppure non sono davvero così tanto forti Secondo me regà faremo il macello, vi lascio al video Eccoci qua in partita ragazzi, andiamo verso scogliere scoscese perché c'è un NPC che mi fa davvero molta molta gola Sto parlando del pesce secco che ti dà il dispositivo di lancio quadruplo Regà adesso che hanno aggiunto con l'update che si possono ottenere 5 armi esotiche Direi che 5 dispositivi di lancio quadruplo sono un attimino OP Quindi andiamo subito da pesce secco e sperando che ci sia e non sia spawnato a castello corallo Intanto voi ragazzi dove andate? Allora vedo già Braga che va verso il manichino Ferro va verso Moli e Maglock is figo che va verso covo del cacciatore Ok a scogliere regà non c'è nessuno Spero che ci sia il pesce secco Sì c'è il pesce secco let's go Regà oh mio dio Oh mio dio sto per fare una cosa di cui potrei pentirmi Sì dimmi Calpi da me non c'è manichino Eh vabbè il manichino sarà lì non è un problema dopo andiamo Vai così ne prendiamo 5 Let's go Oh mio dio No regà ho finito le munizioni Cioè non posso tenerle queste munizioni cavolo Vabbè peccato non è un grossissimo problema dai Intanto sono pure full shield E adesso vado a pushare tutti Calpi Ma sì dimmi Io ne ho prese 6 di pistoline Ma no Come 6 Ne bastavano 5 Ok bravo bravo Vai prendile Ok Oh mio dio io pure Regà siamo già a 10 Voi ne avete No Braga non ce l'ha Meg Mi sa che te non hai loro Meg Non ho loro Te non hai loro Vabbè arriverò io a prenderle per te Anche se in realtà 5 5 cosi del cacciatore Lì non è che servono tantissimo 5 scout tempesta Tanto il potere è sempre uno Quindi potremmo prendere altre armi esotiche Potremmo prendere 5 cecchini Oh mio dio Braga Braga Vieni qui Braga vieni qui Arrivo arrivo No regà questa squad Vinciamo C'è proprio easy Li distruggiamo tutti No regà però dobbiamo fare che ognuno di noi Ha un cecchino esotico esplosivo Così dopo ne abbiamo 4 E iniziamo a spammare Quindi dovrò dare un dispositivo di lancio quadruplo a qualcuno di voi No anzi lo do a Braga Che cavolo vuoi tu Che già è qua Di niente di niente Braga andiamo verso il coso Tu hai un po' di oro Che comunque non è che vorrei spendere Ok allora spero Cioè usalo tu Io ti faccio venire nei miei video E ti faccio pure usare l'or Visto che gentile che sono Oddio mio L'hai presi? No ne posso prendere un altro io No la prendevo io Vabbè non fa niente Intanto tieni questo coso Regà Cioè questo loot È una cosa assurda Regà Dobbiamo unirci Dobbiamo unirci Perché così Almeno abbiamo tutte le armi esotiche Super forti E possiamo iniziare a Pushare tutti Con queste cose Comunque vorrei anche andare verso Parco Pacifico Braga Perché vorrei provare ad avere anche Tipo cinque doppiette Nello stesso inventario Magari Meg Vieni verso Parco Pacifico Che così ti prendi cinque doppiette Che dopo in futuro Dopo aver provato Questi quattro dispositivi di lancio Voglio provare anche Cinque doppiette Nello stesso inventario Penso sia una cosa Aspetta Calpi però Quanto oro hai te? Perché io ne ho No io ne ho Cinquemila tre Regà tranquilli Ormai sono ricco A forza di fare video Sono pieno di oro Se anche voi avete un sacco di oro Da buttare ragazzi Provatela anche voi A fare questa challenge Con i vostri amici Provate ad andare in partita E fare un Prendere tantissime armi esotiche Eccolo lì il manichino Meg devi venire Meg devi venire Assolutamente Te le do Tutte a te le doppiette Io non avrò più oro Dopo questo video Però vabbè dai Lo rifaremo con calma Non è un problema Mi dispiace per gli avversari Più che altro Regà Mi dispiace per gli avversari Perché trovarsi avversari Con cinque dispositivi Di lancio quadruplo Cecchini esotichi Sette doppiette Cosa così Pure le pistoline Quelle che rintracciano Infatti Infatti Non deve essere una cosa Proprio piacevole Facciamo così Allora Droppate tutte le armi esotiche Che avete Droppate tutto 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 Che così vediamo un po' Il nostro bottino Oh cavolo No regà Oh mio dio Braga dove cavolo sei tu Eh mi ha lanciato via Con la macchina mag Bravissimo Allora Allora facciamo così Facciamo così Io mi prendo Un segugio ombre Poi mi prendo Un fucile Un cecchino E mi prendo Tre dispositivi Di lancio quadruplo Va bene Poi voi Vi potete prendere Secondo me Ognuno di voi Deve avere un cecchino esplosivo Perché è super importante Il cecchino esplosivo E poi Ognuno di voi Deve avere Un segugio di ombre Che così possiamo rivelare Anche i nemici Poi fate un po' Come cacchio volete Fate le vostre combo Comunque a parte tutte queste cose Noi abbiamo ancora zero kill Cioè Non si può avere Sì effettivamente sì Ragazzi salite su quest'auto Dentro quest'auto Ci sono più esplosivi Di non so che cosa Oh finalmente Possiamo prendere la taglia Dove sono? Ok Allora regà Siete pronti Avete tutti i colpi cecchino? Cioè voglio un Ok bravi Voglio un Bombardamento Ragazzi Guardate questa gente Voglio che gli spariate Com'è Non lo so Che cosa Poverini questi qua Ci devono crepare subito Vai vai Spammate un po' Spammate un po' Con sti cosi Vai 10 a 1 Bravissimo Io pure Gli ho fatto 61 Questo qui regà Questo qui Spammategli Spammategli Vai let's go Oh mio dio Oh mio dio Ma dove siamo No Come cacchio hai fatto a morirci Ma sei una pippa incredibile Ma Vieni inizio tu Va bene Non commento ragazzi Io ho fatto un sacco di danno a tutti Vai regà Vai regà Spammate Spammate Boom Boom Oh mio dio Oh mio dio No Oh cacchio qua davanti No regà regà Questo qua c'ha la doppietta Ah Aiuto Perfetto Vai tranquillo Che ci sono Si l'ha ucciso Let's go Ho pochissima vita Ho pochissima vita Però regà Ok 24 Bianco Vai spam un pochettino Un pochettino Un po' tanto direi Qua Eccolo lì davanti Vai 27 Shield Vai 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 56 Continua a spammare Continua a spammare Vai così Vai così Non mi ferma più nessuno Ok Ucciso uno Bravissimo Vai l'ultimo Vai l'ultimo Dove cacchio è Dov'è l'ultimo Ha pochissima vita Atterrato Non è l'ultimo Non è l'ultimo Ok Un secondo che mi devo curare Arriva arriva Sì 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 Ok un secondo Ferro Ferro tieni un attimo i muri Tieni un attimo i muri Ok Devo caricare Bravissimo Devo caricare i razzi Vai così No no che mi finisce Dove cacchio è il tipo Eh Da ferro Da ferro Meglock Ok Bravo Let's go Rega Eh te la prendo io Perfetto E adesso ti resto Prendiamo un'altra taglia Rega E adesso voglio provare A vincere Con un sacco di doppiette Nell'inventario Per ora io ne ho due Ne avete qualcun'altra voi Vai grazie mille Meg Allora io ti do una pistola Ok Gente Oddio Oddio Attento Occhio 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 Eh raga Io devo restare braga Vengo da voi Cosa faccio Eh no tranquillo Me la caverò Oddio C'ha la flint Quello lì Quello lì C'ha la flint Porca vacca Rega Posso provare a spammare Bravissimo Col cecchino esplosivo Esatto Sì ok Prova a spammare un po' Mi sono fatto danno da solo Tira un granato C'è gente da me Oh eh Occhio No Mi sono suicidato Meg Me la caverò Meg non ci credo Mi sono suicidato Porca vacca Dai No rega Non va bene Non va bene questa cosa Oh mio dio Eh ferro È un po' un casino E mi sono Ho deciso di suicidarmi Con lanciarazzi Occhio Fra Che ci stanno Quattro persone Qui davanti Sì Il problema è che siete pure Fuori safe Cavoli Non ho neanche tanta vita Eh devi aspettare Devi semplicemente aspettare Ok calpi 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 In teoria sono saliti qua sopra Sì Per andare veloce A prendere la scheda Ce la puoi fare Ce la puoi fare Oddio mio Eh vabbè Che cavolo è Da tutte le parti Ti pushano Ok Oh mio dio Fra Puoi anche decidere Sinceramente Puoi provare a prendere la scheda Prendi quella di Meg Prendi quella di Meg Vai Dio mio Oh mio dio Fatti una scala E vai via Esci 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 Ma se ne ho? Eh sì sì Ne hai Ne hai Build Build a un bot Build a un bot Non provare Fatti i mini Oh L'hanno laserato L'hanno laserato È il tuo momento Per farti i mini Ok Oddio Ti servirebbe un bel medikit Cavolo Sai che l'hanno tramortito Forse Eh forse sì Sai Non lo so però Occhio Oh sì sì Speriamo abbia un medikit Cosa aveva di buono? Un cavolo Vero Non aveva nulla Nulla Oddio Comunque riga Con sto aggiornamento Un medikit Vai vai Prendito Prendito Riga Con sto aggiornamento Ci sono troppe armi esotiche Cavolo è Ognuno ha tipo sette armi esotiche Nell'inventario Ma che cos'è? Zitti tutti Zitti tutti Che forse Ferro fa il miracolo Oh yes Mamma mia che pro player Pro player for blades O for player for mattis Non lo so Comunque pro player per qualcuno Oddio Eh 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 Qua braga che mi ruba Grazie mille Ai No io volevo la doppietta Però raga Volevo provare un sacco di doppiette Ti ha preso tutto braga Tutti i colpi No ma lì ho Lì ho Ne un botto Tranquilli regate Tieni 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 Ok Sì se vuoi ho un bel p90 Anzi io mi prendo pure questa balestra Oh oh Un tizio qui davanti Gli butto l'amore Ti butto l'amore addosso Vieni qua Fatti dare un bacino Why you Ah Oh cavolo Ok Vai che one shot Let's go Oh stati calmo Fratellino L'unico problema sono i materiali Venite qua da me Venite qua da me rega L'avete debolito No Eh vabbè Ferro che muore dalla safe Puoi provare a restarlo Restalo 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 Ok Sì sì Proprio ragazzi Stiamo nel chill Tutto sommato Queste armi esotiche Me le aspettavo forse un pochettino più forti Sono super divertenti Però Non è vero Io utilizzarle sono stato fortissimo E vi ho restato uno contro quattro Beh forse Forse se non mi suicido Sono anche usate un po' meglio Ecco Se non ci suicido C'è chi ha dato uno Bravissimo Eh sì vabbè Io No Sono 1.39 white Bravo Vado addosso Ho ucciso uno ragazzi Ah volevo ucciderlo io Peccato Ok Oh cecchino esotico Ragazzi Uccide col cecchino esotico L'ultimo Dove cacchio è No 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 Un cecchino Eh vabbè dai No lì c'è un altro Troppo perché No Sono morto Non è vero Ok non sono morto Perfetto Ho 10 hp Ma dove cacchio è il tizio Scusate Occhio Occhio bravo Occhio Però non l'ho preso Ma io No No ferro dobbiamo ucciderlo normalmente Che se no qua ci vediamo No scupe non mi è entrato Si va di cecchino Ma che di cecchino Ho capito Ma c'ho 10 hp Come cacchio fai Ho 20 materiali Ferro dammi un po' di materiali almeno Sì ho 340 Eh io ho 20 Dammi almeno un pochettino di legna Grazie Dobbiamo aspettare che l'air drop cada Anzi lo faccio cadere io Per favore dammi un po' di vita Dammi un po' di vita Ti prego Ok C'è Big pure medikit Perfetto Facciamoci sto big Bravo let's go GG Regà La squad full esotica Con tutte le arme esotiche Ha portato a casa una bella vittoria Grazie mille a tutti ragazzi Per aver guardato il video fino alla fine Se così fosse Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Passate anche dal cane di ferro Di braga Link in descrizione E cosa più importante Tutti ragazzi Mi raccomando Utilizzate il codice Calpis Nel negozio oggetti Per supportarmi Come creatore E shoppare Tutti questi fantastici Balletti e skin Che ci sono Nel negozio oggetti Grazie mille a tutti Per la visione E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao